Elegantissima, il contegno come sempre è fiero, non ha nascosto l'apprezzamento per gli auguri ricevuti di persona dal sindaco della sua città. Teresa Rigettini, nata il 1 maggio del 1913 a Pieve di Ledro e da più di 70 anni residente a Riva del Garda, ha festeggiato ieri il 102esimo compleanno nella casa di famiglia in Viale Alberti Lutti, assieme ai quattro figli e ad una piccola folla di nipoti e pronipoti, parenti e amici. Fin dalla giovinezza, la vita di Teresa Rigettini ha incontrato quella che sarebbe diventata la sua città, quando è andata a servizio in una nota famiglia rivana, dedicandosi in particolare all'accudimento dei bambini. Poi il matrimonio nel 1941 con Silvia Zanolli, arcense classe 1909 e il trasferimento a Riva del Garda, cui Teresa si è dedicata anima e corpo alla famiglia e ai figli. Una mamma severa che da noi pretendeva molto, dicono in cuore i figli, sorridenti e contenti. Beh, è severa ancora oggi, aggiungono confermando l'impressione che la severità non è mai stata priva di affetto ma tutt'altro. Sentiamo ora alcune parole dell'ultracentenaria. E tu chi sei, giovane? Quello lì, eh? Federico? Ah, Federico! Che bel bambino che sei! Gli qualche ricordo da raccontare? No, ne avrei troppi da raccontare. Ma uno in particolare. Ah, scappavamo la maestra, scappavano la maestra per andare a spasso. E le tue amiche? Le amiche scappavano anche loro. E dove andavate? A ballare? A ballare. Salute a tutti, belli e brutti.